e dopo un po di ore passate nel manicomio il tempo è migliorato è uscito il sole ma noi siamo alla ricerca di due cose da mostrarvi la prima sono le lastre originali dei pazienti ma poi voglio farvi vedere l'ingresso dei sotterranei di mombello una lunghissima rete di tunnel che si dice portino fino al centro della città e tra l'altro nessuno ad oggi è ancora riuscito ad esplorarli tutti andiamo a vedere se li troviamo no 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 eh sì è vero amore mio abbiamo visto dall'esterno che questo è uno dei progetti che la regione lombardia ha sviluppato insieme al manicomio di mombello una vera e propria tessitura una fabbrica tessile guardate che spazi enormi e qui ovviamente lavoravano dentro gli ospiti i pazienti ne abbiamo già parlato molto bello aver fatto questo ritrovamento sarebbe bello anche che ci fosse rimasto qualche cosa ma purtroppo il tempo e i vandali si sono mangiati tutto immaginale e insistie durante la prima guerra mondiale mombello fu anche utilizzata per ospitare più di 600 soldati in arrivo dal fronte si tratta proprio di soldati che non riuscirono mentalmente a reggere il conflitto e andarono fuori di testa in poche parole si diciamo che vennero proprio internati come pazienti però ovviamente il trattamento che gli era riservato era completamente diverso non c'era la non erano rinchiusi nelle stanze quindi c'era la totale libertà per loro c'era un regime dietetico studiato si dice che molti di loro presero dai 10 ai 15 chili e addirittura di questi 635 soldati 517 vennero rimessi ovviamente poi in libertà quando guarirono c'è da dire che anche per loro fu fatto fu trovato un lavoro e moltissimi costruirono proprio le strade asfaltate che stiamo calpestando in questo momento che collegano l'istituto della vigilanza di mombello agli altri padiglioni stiamo cercando di entrare in questo edificio che è completamente recintato tutte le finestre sono blindate alcune addirittura murate dimmi guarda vieni che abbiamo trovato un barco in mezzo all'orecchia porca 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 l'ha trovato l'ha trovato ma cosa c'è dentro lì non lo so bubussette come bubussette ragazzi prima la pami si è spaventata madonna mi sono mi è venuta una sincope il gatto nero schizzato fuori di botto in un padiglione mi sono spaventata di brutto miau miau bubussette bubussette Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non tutto il manicomio è abbandonato, ci sono delle strutture che sono ancora in funzione, c'è la croce bianca, ci sono degli uffici e credo che questo sia il padiglione, la struttura dove si può accedere ai sotterranei. Andiamo dentro a vedere. Finalmente ragazzi, dopo una lunga ricerca, anche se in realtà ce l'avamo sotto il naso. Ma non ci avevamo fatto caso, abbiamo trovato l'ingresso. Questo ragazzi è l'ingresso dei sotterranei, è una rete di gallerie che dura 28 chilometri. E gira tutto intorno sotto. Tra l'altro ci sono degli anedoti abbastanza lugubri anche dedicati ai sotterranei. E allora scendiamo qualche gradino armati della luce che mi sono portato ed eccoli i sotterranei di Monbello. E' un luogo che mette i brividi. Queste sono le tubature che portavano l'acqua calda lungo tutto il perimetro. Da qui iniziano i veri e propri sotterranei. Un metro e ottanta di altezza per 28 chilometri. Se pensate di scendere, utilizzate un'attrezzatura adatta, ma evitate di farlo perché potreste davvero perdervi.